Si ripartirà nei tempi previsti per tornare a godere delle bellezze montane? Crediamo di sì, ma di certo le dichiarazioni del presidente della provincia di Bonaventura pesano come il gran sasso e di certo non mancheranno ulteriori polemiche. Ne pagheranno le spese i cittadini e gli operatori economici? Attendiamo speranzosi gli eventi, neve compresa. Io non sono così felice come tutti oggi hanno quasi esultato perché dimostra il fatto di quello che ho sempre detto, che non possiamo essere ostaggio di due, tre, quattro persone e delle loro volontà perché è innegabile quello che si è fatto ieri sera, si poteva fare un anno fa, lo dimostrano i fatti perché è la stessa proposta di un anno fa, è la stessa proposta che è stata fatta ieri sera e perciò vi dico la nostra montagna non può rimanere così sugli animi oppure su dei dispetti che qualche cittadino che rappresenta qualche organo fa a quei territori e poi non lo fa solamente a quei territori ma lo fa all'intera provincia, all'intera regione, all'intera Italia perché lo ricordo che il gran sasso è il gran sasso d'Italia. Ecco perciò sono così felice e dispiaciuto perché dimostra quello che ho sempre detto. Adesso è una corsa contro il tempo, qualcuno di voi già l'ha detto, perché adesso bisogna fare, oggi che è 9 novembre, le manutenzioni, bisogna fare una serie di lavori affinché il comprensorio possa ripartire e non lo facciamo ad agosto, perciò sono arrabbiato. Lo si poteva fare a luglio, a giugno, quando su, ecco c'erano anche le farfalle. Oggi già fa freddo, sta per iniziare a nevicare e immaginate quale danno e quale sforzo bisogna fare. Ecco noi, l'ho detto, dobbiamo ancora investire altri soldi su quella montagna, spero che oggi si segna, ecco proprio, ci sia proprio, si segna il passo proprio, che quello che è accaduto finora non accada più, che non si può governare per dispetto. Anche noi oggi, la provincia, poteva fare la stessa cosa che hanno fatto loro. Ah, tu hai fatto così a noi un anno fa, oggi noi non firmiamo. Ecco il dispetto, per fare un dispetto a uno, fare il dispetto all'altro. Presidente, non vi metterete di traverso, ma c'è la possibilità di lavorare a braccetto per risolvere questa situazione? Noi lavoriamo per il bene, ecco, chi lavora per il bene, noi ci trova. Oggi l'ho detto, al di là delle polemiche, scusate sono arrabbiato perché dimostra quello che dicevo, che tutto quello che si è fatto oggi si poteva fare un anno fa. E invece lo facciamo adesso, lo facciamo nel freddo, ma va bene, è una corsa contro il tempo. A me spiace, per tutti gli operatori che hanno perso delle economie, per tutta la provincia di Teramo, che ha perso un'immagine, perché un anno siamo stati chiusi, per nulla, per nulla, perché vedete gli atti, sono gli atti di un anno fa. Però sono sempre misericordioso e pronto a ricominciare, e ricominciamo una storia nuova.